Buongiorno a tutti e grazie. Quante volte li abbiamo sentiti parlare anni fa di conflitto di interessi, esponenti del centro-sinistra. È stato un errore non farlo, però non l'abbiamo fatto perché non potevamo, perché c'era il governo Berlusconi. L'ultimo Renzi, non so se ve lo ricordate, faremo il conflitto di interessi in 100 giorni. In questi giorni di governo hanno fatto sbariati decreti o leggi esclusivamente a favore del sistema bancario. Ve li ricordo perché sono davvero vergognosi. Nella manovrina c'è uno sconto fiscale per gli istituti bancari. Tratto manovrina fatta perché l'Unione Europea ha in parte bocciato la finanziaria renziana, utile ad elargire bonus e mancetta a destra e a manca per comprarsi il voto dei cittadini italiani per il referendum, grazie a Dio, senza riuscirci. Hanno spolpato MPS, la banca è loro e la banca del PD l'hanno spolpata loro dando quattrini a destra e a manca, agli amici degli amici, Amato telefonava alla dirigenza di MPS per chiedergli denari per finanziare il torneo di tennis di Orbetello, tempio del radical scicchismo mondiale. L'hanno spolpata e oggi coprono i buffi grazie ai quattrini pubblici. I buffi sono i debiti a Roma. Hanno truffato decine di migliaia di risparmiatori con i decreti salva banche, hanno regalato 7,5 miliardi di euro alle banche private con il decreto di Banca d'Italia. Vi ricordate che è stata la prima grande opposizione del Movimento 5 Stelle e hanno oltretutto reso per gli istituti bancari più facile l'esproprio delle case dei cittadini. Questo hanno fatto. Per cui non ci stupisce minimamente l'indiscrezione, anzi una denuncia importante giornalistica fatta non da un grillino, ma da uno dei giornalisti più importanti e anche più rinomati che c'è in Italia, appunto De Bortoli, ex direttore del Corriere della Sera. Non è che l'accusa viene dal grillino di Battista, Fico, Villarosa. Qua ci sono cose dette appunto da un giornalista importantissimo che evidentemente ha prove e fonti. Ieri pensavamo, sì, chiamiamo di nuovo la Boschi, ma che senso ha? È una bugiarda cronica. È una bugiarda cronica. Mente sempre sapendo di mentire. Non ha alcun senso. Chiama, che verrà di nuovo in aula a dire tutto bene, io ho studiato, sono la prima che mi sono laureata, grazie a mio padre che faceva i sacrifici, che faceva 5 chilometri a piedi ogni giorno andata al ritorno. Prendere in giro i cittadini, truffati dalla loro scelta. Hanno pensato esclusivamente appunto al capitalismo finanziario, dimenticandosi di risolvere un problema relativo al conflitto di interessi che riguarda molto più loro che Berlusconi. Noi questo l'abbiamo capito in questi quattro anni in Parlamento. Certo che Berlusconi ha conflitti di interessi enormi, ma non è mai stato risolto il conflitto di interessi appunto perché non conveniva al centro-sinistra, a quest'ipocrita centro-sinistra. E la Boschi poi disse, disse appunto in aula, però io non c'ero in quel Consiglio dei Ministri. Cioè come a dire, non abbiamo violato alcuna legge, ma di quale legge si tratta? Della legge sul conflitto di interessi di Berlusconi, che i loro signori hanno detto più volte che avrebbero appunto voluto cambiare. E' una bugiarda cronica, è Gentiloni che ci deve mettere la faccia. E basta, Gentiloni deve battere un colpo. Non è che può fare il verginello, immacolato, che non dice nulla. Deve parlare. Il sottosegretario Boschi è il sottosegretario del suo governo. Deve dire da che parte sta. Se sta dalla parte dei cittadini truffati o da questo sistema familistico. Se sta dalla parte appunto dello Stato italiano, o dalla parte di questa arroganza boschi-renziana veramente vergognosa. Perché sono degli arroganti. Ci deve dire se sta dalla parte del Paese tutto, o butta l'occhio soltanto a quei pochi chilometri, a quel fazzoletto che va dalla Terina a Rignano sull'Arno, anche se sarebbe meglio chiamarlo Rignano sull'Arcore. Perché mi dovete dire cosa sarebbe successo appunto se fosse stato Berlusconi a far tutto quello che hanno fatto questi ipocriti, questi traditori appunto dei risparmi dei cittadini, questi traditori della democrazia, questi mentitori seriali, questi arroganti al potere che utilizzano ancora di più di Berlusconi la cosa pubblica per il loro interesse personale e privatistico. Perché non c'è nulla di peggiore dal punto di vista politico che chiamare un amministratore delegato di una banca importante quotata in borsa per dirgli comprati la banca riconducibile alla mia famiglia, alcuni dei miei familiari nella nazione dove il mio babbo è vicepresidente. È Gentiloni che deve parlare, Gentiloni come diceva Figo che deve venire in aula. Noi parleremo con Gentiloni perché di una che diceva anche lei qualora dovessi perdere il referendum mi ritirerò a vita privata, nessuno più si fida, la credibilità della signora Boschi, della signorina Boschi è zero, è zero la sua credibilità. Berlusconi batta, scusate Gentiloni batta un colpo, ci deve mettere la faccia lui, siamo pronti ad aspettarli in aula. Grazie.